Buongiorno a tutti, sono Giorgia, l'istruttrice FitExpress Romadomus. In attesa della riapertura della palestra vi lascio un circuito da poter fare semplicemente a casa. Buona visione! Buona visione! Buona visione! Buona visione! Continuate a fare attività fisica e presto torneremo tutti insieme ad allenarci e divertirci nelle nostre sale Ciao a tutti!